Oggi è importante, se ne parla, se ne è sempre parlato, però qua alla fine non si è concretizzata. Questa tematica, diciamo, è una tematica difficile, qualche volta viene considerata scomoda. Certe cose si vogliono sapere, però alla fine non si vogliono sapere. Noi invece le vogliamo sapere, conoscenze e gestione dei tumori, i dati del registro tumori dell'asma 1-3-SU, di questo è quello di cui parleremo oggi e io devo ringraziare per questo la dottoressa Antonietta Costantini, che è il nuovo direttore generale dell'asma 1-3-SU, che ringrazio la sua sensibilità e la sua presenza qui, nonostante altri impegni istituzionali. Quindi veramente la ringrazio di pure perché ci fa capire la presenza dell'importanza che lei dà a questa tematica e alla penisola sorrentina, quindi è un dato, questo è importante, che volevo sottolineare. Ringrazio il collega Mario Fusco, che è il responsabile del registro tumori della nostra azienda, quindi che ci dirà che cosa succede, che cosa è successo in penisola sorrentina dal 2008 al 2013, quali sono le patologie emergenti, che cosa bisogna fare, lo screening, il percorso, che sarà individuato insieme al dottor Carmine Pizza, che è il responsabile dell'oncologia pospedaliera della nostra azienda, insieme ai suoi collaboratori, il dottore Coach, la dottorista Bareschini. Quindi avremo un'idea di quello che si deve fare, in che modo noi come amministratori possiamo agire in sinergia con la nostra azienda, con i nostri medici, per poter migliorare l'assistenza a questa tipologia di pazienti.